Siamo qui alla fine della partita con Rottivago, piccioni comunali, con Rottivago, riusciti a vincere contro i piccioni comunali, il miglior in campo è questo, faccio parola a voi. È stata una partita difficile perché avevano anche un sostegno dei tifosi molto accesi, è stata una bella vittoria, abbiamo già tutti bene. Grazie a tutti, grazie a tutti.